Buongiorno a tutti, io arrivo da una piccola realtà che è Vercelli, l'ospedale di Vercelli. Devo dire che mi è stata data questa possibilità ed è stata un'ottima cosa. Ho potuto toccare con mano l'esperienza con un nuovo ecografo che ancora non avevo né visto né provato e che mi ha dato assolutamente un feedback molto positivo sia per le immagini che la immediatezza degli strumenti che si possono usare e l'applicazione diretta in sala operatoria di quello che si può fare. Ovviamente questo è il futuro della nostra professione, l'utilizzare l'ecografo che rientra in tutte le linee guida sia per la sicurezza del paziente che per la sicurezza dell'operatore. Devo dire un riscontro molto positivo anche per un'organizzazione che non ha peccato in nessuno dei suoi aspetti. direi ottima cosa, buona organizzazione, professionisti molto preparati e molto disponibili a spiegare anche e a rispondere a tutte le domande che gli sono state poste. Sicuramente un riscontro molto positivo e un bel ricordo. Ciao! 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 Ciao!